5 stelle, problemi loro, non mi tocca, han detto troppe cose e troppo diversamente. Vai. Se faccio un bel intervento me la dai anche a me la monetina. Adesso vediamo. La prima cosa che devo dire è che io sono veramente felice di essere a questo incontro perché finalmente mi torna la speranza e sto dicendo davvero, veramente e questa è la prima cosa che volevo dire. La seconda, non meno importante, quella lira lì che sta girando, ne vorrei una anch'io magari, poi chi è che la emette e chi è che ne ha la sovranità? Abbiamo parlato, cioè non ho sentito parlare di banche centrali, di moneta popolare che mi sembra poi sia il concetto fondamentale della libertà sul quale già gli Stati Uniti col presidente Winston, non voglio farla lunga. E l'altra cosa che mi riprendo a un intervento di più di uno di questi relatori eccelsi è quello che per esempio con le privatizzazioni tra un po' privatizzeranno quello che è rimasto, cioè l'acqua, le municipalizzate e tutte queste cose qua. Io ho finito, la merito la lira? Sì. Grazie. Bagnaio Borghi, chi è che risponde? Chi stampa? Chi controlla? Allora, grazie per la domanda. Allora, io sinceramente non vorrei entrare troppo nel tecnico, perché per tutto c'è una risposta, vale a dire, su come si può fare, buona parte l'ho trovata nel libro del professor Bagnai, ma in ogni caso anche quello che non c'è si può essere spiegato. Quindi cerco, però l'importante è prima come dire, noi siamo al livello dove bisogna capire se vogliamo arrivare in montagna. Dopo che abbiamo deciso che vogliamo andare in montagna, prendiamo la nostra mappa, vediamo dov'è il sentiero, vediamo dove sono i punti pericolosi e così via, e li spieghiamo nel dettaglio. Se invece abbiamo ancora il dubbio che uno sulla montagna non ci voglia andare oppure voglia andare al mare, tante volte poi dopo, è inutile che io spiego il passaggio del fiume o del guado, comunque molto sinteticamente, la moneta nel momento stesso in cui poi dopo ritorna o ci riprendiamo la sovranità monetaria, diventa come era prima, vale a dire, gestita da una banca centrale. Ma noi vorremmo, personalmente, però penso che sia condiviso anche dai miei colleghi, vorremmo farla tornare prima dell'81, vale a dire, prima il momento in cui per venderci che la banca centrale doveva avere la sua autonomia, perché era molto meglio avere la banca centrale con la sua autonomia e quindi indipendenza, abbiamo scoperto che in realtà ci scavamo la fossa da soli, perché la banca centrale ha una funzione così importante, così pervasiva, che ce ne siamo resi conto ora di quanto è importante, che è parte essenziale del governo di un paese e una parte essenziale del governo del paese deve essere sottoposta a un regime democratico, non può essere totalmente avulsa che si fa il cavolo che vuole, perché altrimenti non andiamo a casa più.